Musica E' stato sacco, perciò, se ne avessero si contegno Ora, Luigi Antonio Vassone, che è scomparso da poco più di un anno Aveva un concerto grado di Cural Dance Che era un dipartimento, un arti, un spettacolo, un musica Lui è proprio doverato, credo che fosse un dei più grandi, un meno prese E dei più grandi aspetti di teatro che senz'altro E lui aveva scritto, se non avevano tesi, per un'idea di teatro di Lettale Romagnolo Allora, lui, nell'interruzione, si faceva queste domande Un'idea di teatro di Lettale Romagnolo deriva necessariamente Dalla risposta di diversissimi quesiti che ininterventemente sorgono In chi si occupa di questo tipo di spettacolo Ad esempio, che senso ha oggi? La cosa viene nel caso degli anni 70 Oggi fare teatro di Lettale Romagnolo Lui si è posta una risposta che era negli anni 70 Quando allora il teatro di Lettale, 80, anche 80 Probabilmente era un gioco E era nel gioco del gradimento Purtroppo quello che non si è riuscito a fare è attirare il giovane E la cosa più grave è questo Anche lì ci sono tanti motivi Il fatto che non si parla di più tanto di dialetto La povera di non capire il paese L'idea di più attestivare il capesto Secondo voi, perché la gente non va più a vedere le formiglie? E' un cuore, sono un cuore, sono meglio Non tanti nelle... Insomma, si parla sempre di... Diciamo che le formiglie non danno mai per qualcosa di nuovo Non è sempre finito tutto bene Tutto... Sì Sono importanti nei temi... Dai, la tua, vado nei testi un po' No, nei testi C'è anche da dire che quando uno organizzano la segna La prima cosa che ti chiede è quando ti presenti come compagnia E dici, avrei una commedia da fare Ma fa la lì Eh, perché la bella è tiburita Forse voi lo sapete che il teatro di Lettale nostro Nasce nel 1922 Con Elegio Cuperti E scriverà Prima le commedie Mi ha letto è una professione Poi prima Gli uomini facevano anche la parte della donna Quindi Era sempre un po' sullo scherzo Ecco Un po' di storia c'è da dire che Nella diete cattolica Si derivava dalle filosofatiche Come dicevi da Diero che cattolica Per fare uomini, uomini, donne, donne E dopo la venuta di Don Bosco Qua bella Romagna Direi che dappertutto Sorgono delle filodramatiche Dall'inizio del Novecento E alcune sono sforciate In compagnia dell'Italia romagnica Purtroppo È rimasta l'idea L'idea Svecchia Della filodramatica C'è Di gente che si mette Per pressione Al tonno A un testo E esattamente La vai la vai Io credo invece che Tanti motivi Che sta scomparendo Nel teatro diventare Anche per la qualità Che c'è che ha Credo Le compagnie La poca ricerca I testi Che ci sarebbero anche forse Ma oggi bisogna lavorare Non abbiamo le posizioni Come il merito Che ha Gondone O Napoli Che ha Duvalardo No E eccetera Perciò E poi abbiamo riscaldi Ci sono ancora delle commedie Molto belle Anche vecchie Però bisogna rinfrescare Sì Rinfrescare E' un paio Per tempi E' un po' di via adesso La nostra crisi E' anche i direttisti Molti direttisti Veramente Desperti C'era bastone Però Perché no Che stuggeri Tutti a teatro Che stuggeri Però Quello Che c'è Lo posso avere Voglio dire Una cosa Che magari Tanti non sanno Noi come Associazione Shure Abbiamo fatto La raccolta Di tantissimi copioni Che sono A disposizione Di chi Volesse Consultarli C'è l'intività Come con Certo Che fanno le cose Come faceva Mario Scott Poi lui Nel professionismo Però Fanno fatica Entrare In quello Che si chiamano Tra virgolette Assegni E dire Che lo sobrano È un tipo di qualità Teatrale Che a cui Il pubblico Non è buono Io stesso Che ho fatto Le cose Un po' diverse Che è Però Secondo me E sa Cioè Il nostro pubblico Si è sempre Scontagliato le gambe Quando noi cercavano Di fare Le cose Un po' diverse Rifiuta un po' Vorremmo Lo solito Con sé Vorremmo andare Per quello E anche Conoscere Siste Vodice Che è Una Tutta Che Due Quella Che so Però Si va Mettino Perché Si ricambe Proprio Della spursata Di compagnia Di quello Che si stava Da fare Per Gratulare Gli altri Io stesso Non so Chi Ho Qui Però Non è lento Che Io Sono Finale Di partito Ma Quando vedi Che dietro Poi non c'è Nessuno Discorati Sì Beh Abbiamo dato No Perché No Eh Si No Abbiamo dato Ci spisse Sono assertite Stasera Intanto Vediamo La sentita Ci fanno Qualcosa Sì Guardandosi indietro Sì Qualcosa È stato Fatto Infatti Una volta Ti penso Quando vedo Delle cose Che non stanno Dritte Che ti sono Di mirare Delle cose Che non stanno Dritte Direi Se Capito Zona Quella Non so Da più Capito Noi Bisogna Che facciamo Il meglio Il meglio Il meglio Che siamo Sono Due Sopriche 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 Ci dobbiamo Prendere Conto Che Siamo Il primissimo Gardino Noi E il pubblico Che riteniamo Non è gente Abituata Dal teatro Al buon Ci O qua O là All'accezione È gente Che viene Del teatro Come E quindi Sospetto 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 Possono Rimanere Deosi E possono Rimanere Contenti Il problema È Che si può Riuscire a spingere Verso Il granuloso Sospetto Che c'è L'altro Che ha Quello Più Ci costa Un po' più No Più Piñato Più Piñato Sospetto Sospetto E quindi Trovare la misura Per ridurre la gente E poi tornare Non è che sia facile È facilissimo Solo Se non c'è Portarsi il cedeo E poi si fa Dei grotti O come c'è Fa E' La cosa La cosa La cosa Secondo me Non è neanche La prima Di considerazione Però C'è 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 Apoato Magari E quindi Dopo Andare a dire Tutti noi Abbiamo iniziato Il gioco Sì Il gioco Per tutti Ci svegliamo Amici Lì Poverizzati Poi Un po' Ci svegliamo C'è La cosa Non poteva C'è Un volore E il volore Lo assume Lo assume Se riusciamo A trasferire Chi ci guarda Non dico Delle grandi Emozioni Noi ci vediamo Ci sono troppo Troppo Super Però Così Dei sentimenti Non c'è Non credere Che un problema Sia anche La mancanza Dei giochi Che fanno teatro Certo Le cose Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Penso No Però Maggioranza Sì Maggioranza Sì Qualche Maggioranza Io credo Da schiappontore Per il test Potrebbe essere Che Gente Se vogliamo Vistare Per dei giorni Nostri Qualche Duno Può Parlare In Dele All'altro Non so Parlare Italiano Invece Di Mi ricordo Che Di Corsi Di Regolamenti C'era Che Ma Il massimo Uno Potrebbe Parlare Italiano E Il mister Il mister Il mister Poi Non deve essere Un futuro No Un futuro Un futuro Un 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 per essere più concreto, per essere reale, per qui tu stai se no non fanno uno scappatore avanti se quando chiesti a me besta puristica l'ultima mia volontà avrebbe lasciato la scritta avrebbe lasciato un messo dentro una cassa di me con la mia amigazzetta e la mia amigazzetta una cassa di una cassa di una cassa per una cassa di una cassa di una cassa e quello che fosse il mese che mi ha dato dopo che saperebbe che il papà aveva la mia amigna che mi ha dato per aver capito un bicicletto per aver capito con una cassa di qua che mi ha detto che la cassa di tu e che è ben prematurito perché palestra è in scena, a me non basteva dentro, dal scena all'usterino. E quando avessi il punto di dire la prima volta, e l'avessi messo ciò che vanno a fare, e non c'era di sempre stato il valore. L'euro magnola ti vuole, la scena scena! Allora portavo qui nella scaletta, adesso arriva la prima farsa della compagnia La Serce. L'euro magnola ti vuole! D'ora nostra storia, la scossa in 150, ma la 150 è musulmane, quindi a chiudeva all'interno musulmane? Non è un posto a po' Aline, non sia un blocco. Passa! Passa! Piacere un posto a Pialino in Cattò che i cieli d'ordini, alle stracate! Piacere una scena, sono un regalo! Sì! 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 Sì lì! Aveva un poste, un poste, un poste! E tu che è la gente che quando aveva solo la bocca? E tu mi aveva la piazza e mi pedeva che aveva una figura, che fa parola brutta! Una figura! È passadola! È passadola. È passadola! È passadola! È passadola! È passadola, che faceva a laia, raccoglie! È passadola! Quattro, che sono sei auspensato, è passadola, è si è passadola, È passadola... Che non si svegli il mondo? E il matauto e il suo av givello, non si fosse un poste. e posto in questa domanda. L'era e fioro dei canzonieri, tutti loro, aspiranti box. No! Hai un chino di sempre che hai perso me? Ma veramente, ti compiò la lettera di voi, la ciotola. No, 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 non ci stai compiò anche. Se hai detto che sono me, che non è da su me. Ma hai detto che hai perso me? No, non hai detto che hai perso me. No, hai detto che hai perso me? Ma bella, sei che hai perso? Tavo' pass fu in ultimo gioco perchè hai perso me? Sono se chiamato mi che non mi sono ma ciotola che aveva risp e è classico Chi di anni conosce già le cose ha sentito mille volte, però ormai sono bella fai, ma no. Ci chiamano amici, cioè come se tutti c'erano amici che fanno una certa età, no? Verso i 40, 50, 60... Cioè come poter stare a succedere? Allora uno andò in bicicletta ecletta, l'hai andato a crossfit, il tonno alla stancà, un line nel testo alla partagionta, pulicà e trincio da te. Da te un'inaugurazione ti fai da più una pizzeria e che fai più altre cose, però, eh? La volta che ci incontrò, guarda una camminata e c'è l'altro, no? Che dopo cosa camminiamo a fare? Vabbè, ascolta, vediamo qualcosa, no? Che dopo ci siamo visti tutte camminate, ma ne sciogliano. Ormai non sciogliano come niente. Oh, lo sai, è una piatta di nuovo sushi padre, la dobbiamo provare assolutamente. Nooo, per me sono sporchi, io il sushi non lo mangio. C'è una piatta di costerini pasticciati. C'è una pizza, vabbè, ma andiamo sempre lì. Ehm... Come è vero? Voi lo st'estate fatto, andiamo veni insieme, dai, vedi, ci sto, sei quando l'hai rafferrato e io ne prendo l'idea agosto. Te io a settembre, te io a luglio, te io faccio la stagione... Scusa, allora stiamo a scelta, un weekend, eh? Va bene un weekend, ma no, ancora un weekend di quello che compriamo da mia nipote, quell'altro dopo non ci sono io, e c'è quel concerto lì, il lingone, questo po' che devo accompagnare. Scusa, allora facciamo così, eh? Una russona domenica, anumana, scirolo, stagiamo là tutti i tempi, eh? Ma dimmi, no, c'è una charretta. L'ultima volta che ci sono stata, mi sono spaccato, non è? Tutti i relax del mare, ti lo via, io che lego, allora diciamo che devo essere a casa, perché devo aiutare la mia zia a fare una cena che vengono degli amici di Trento. Scusa, domenica prossima sono vergogna, va bene, scusa. Scusa, metteci una parola? Un po' a sole, buona no, una sera tipo, non so, domani sera, sì, domani sera, sì, ma per voi due. Scusa, guardi, graffi, eh? Toca a pisce, dai, 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 i tuoi amici che vanno lì a una mattina parallela, diventando i comuni, ah, invece i tuoi amici che vai a Stara e che pettergì, se però non mi è da voti, fatti i concetti, ma le vanno dal maletto e dal bocchino Seconda, cos'è va a scendere? Andiamo in giro, eh? Un bel cimino? Va bene, cimino? Sì, ma io quello l'ho già visto è lento non riesco a quella prima visione ma per la seconda ce n'è solo una non riesco a capire addio loro per te stagia mica che balle, non riusciamo mai Questo invece è un monologino un rievo monologino non so se è mai stata la scena non so se stagia mica e vabbè ma capisci dopo pulire ma non bisogna spasare Prima io chiedi un anno che c'è un po' la porca in castelli, lasci il loro stai sbattendo la luce per una te una porca e quella la c'è un po' la e poi finì la porca è la cameggia ma spasare ciò che dopo uscire il mondo spasare le schemi mentre aveva la spira polca sotto le pini non so se non riesce a capire che era una pugnata in cosa? sotto le divane la cameggia è di là e poi aveva un po' la curente e la scamba e le aveva da fastidio poi ero staggando con i scherzi e sotto i platani i platani e ti intaccati che stasera per noi i platani e lascio una puntesa e ti dico una po' la notte e ti dico e ti dico e ti dico e ti dico quanto e ti dico adesso e ti dico e tu e io e le ormai e ne dico da te A parte, no? A parte, no? Intrumenta il letto aperto e ci sceglie e gli abbandessi. A davanti ai caposcenti non mostrano voi. Sì, alzati, ma non è una cooperativa apposta ma dovete dire che non è tutto il tempo non è tutto il tempo, non è tutto il tempo ma è una volta, no? E anche a te, in caposcenti, quindi da tutti i caposcenti, non è una carità, mi sono un mone, mi sono un giuro no, mi è da pie, perché ha salato. Come è ciuglie? Aspazza, 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 aspazza! Ad noto, e trovi all'estucleo una bella, una cadena di schien, che respiret e che era molto. Anche al fante, perché è capito sempre che dò a me, ci sono più di fatto. Aveva da maniera un è passato, aveva da bene, non so esforzo. Abbiamo dato un'interessa religione a 9 anni, ma te ne vedi a nulla, e adesso è nascita. E' un po' di quei altri corsi che ho fatto con questa vita, e qui ti dice, ma così non è niente, io sono contento di vivere, di grande lavoro, di una scena coppia, di soltanto e di soltanto, e la soddisfazione doveva la rotina fatta un tecno, e il dialetto quasi un tecno. Per questo avrebbe essere curato, come un puretto che si vede a fare, nesta fatica che abbiamo, perché l'ha vinto la due giorni, ma quel che avrei avuto, se ne vedi i manifesti, poi cari Dio, e cresciva presto, nella sua delle tintea, per fare i miei amici, che può lasciare, e condigere tutti i saluti. In cui ci sono persone, e anche in sera, a che tra noi, che la rabbia, non aveva caldo ancora un momento, come il furgon, strano la maschita, a che ci sono, e faccio di tutti, ormai cinquante, fatti da vita, da tutti i bisogni, che da casa, ci sono per prevenire, e non sono ancora da dormire. Però se contiene di mente, che è appena, che mi fura, perché io mi fico mai, di un trio quattro, e qui ci sono molto della scena, che torna molti venti, che grano, che ne ha, cosa che sa fuori, che ti fai, 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 e che venga, che ti fai, che ti fai, che ti fai, che ti fai, che ti fai. E io ti arriva tutto, e tu, la scena, le giochi finesse, e tu, a sei mai solo una ramegia, la maggiore, a te crino, il vero, nel gran giù, poi la finestra, non te la seng, e vengo mai troviato, quando la seng, dopo tutta la proposta, perché le ore, ho tutto ben, con le frate, per fare la prova. In questa vita, sostiene di volte a me, dal lavoro a me, e solo il teatro non va a fare, perché il teatro non va al Signore. e di lei, ma scena, per un gran giù, o dà, se da pipè, di tanto di soddisfazione, poi ho qui, per il giudizio d'appoggi di Madonna. Ma le proprio per quello, che faremo la firma, la campagna, ad morrisci o regalieri, per la vita, da zang, che ti fai, che ti fai. Grazie mille. Una mamma, fresca, fresca, va dare per il peggio al suo preagolo. La taglia rosa, ancora un po' spiegacetta, pianino, pianino, quasi più una cosa che fa in mea. Un bacino, solo una fredda, e ferma, e da sicurezza. e poi dà una nota, dà un palafone, un palafone, un palafone e un palafone. E dà un piccolo, che è il giudizio della vita. L'aspermucca che è... un brano che praticamente è la ventagola della vita. E dà una cosa che è... E poi ho chato, che è un palafone, ma è fai una cosa tremuta. L'aspermucca è tutto il suo volo. E poi ho chato la pelle colorata. E poi ho pensato... un pozz'altro come è solt'istì, è rossa come l'amore di me. A stranze è solt'icola fuori, li proprio mette il corso della vita, fa una facoltà lavare la donna, sempre per un corso, fiori, lavoro, ca e via. Nella seconda metà, in principi, la dà ancora un bel giudotto, ma pianin' pianin', la calc'è ancora più tè, la manda invece più stracca, la stranze mè, un po' di bozzanino, un schiù, e la voce la senti vita, proprio come è succeduta la vita, la forza stranze è la calma, di su cui nasce per me, e parecci volti, un toccasso, un po' stocca, per indurci chi è più a me e ne sciogli, però l'odore e il sapore della vita, gli è sempre più, e l'ultima, che vi leggo, dato che siamo pochi giorni dalla festa della mamma, mi piace concludere con questa, una parola, e la prima parola per babilia per a te, «Mama, oggi ti con te», che dirò un snig, è prender da scuola, «Mama, questa è la lembrosa, e io vengo a dire che presto a scuola!» «Oh, mamma, non vieni, non vieni, non vieni, ma io ho ancora tanto bisogno di te!» «Mama, la parola più dorsale e più importante, che vi è molto buona!» «Vogliamo ringraziare Carlo Fabri e Alfonso Nadiani, che venite qua in piccolo omaggio, con una confezione di sale dolce e ingeglie, a tutti voi che avete partecipato!» «E poi, state lì, state lì, e che avete partecipato, e ci sono tutti i nostri convi, con una confezione di sale dolce e a tutti i nostri convi, e poi all'annuogo, e tutti i nostri convi, grazie a tutti i nostri convi al centro, ho bisogno di una ventcia, allele, ai miei il vostri convi, grazie grazie